Feste di Natale a rischio per un milione di italiani alle prese con influenza Covid a lanciare l'allarme e l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'OMS sta monitorando le evidenze e aggiornerà la valutazione del rischio se necessario, ma intanto quasi un milione di italiani passeranno le feste di Natale a letto ammalati. Per Pregliasco, nonostante il leggero arresto della scorsa settimana, il dato dell'occupazione degli ospedali, ricoveri e morti è in crescita ed esta preoccupazione. A fronte della situazione, la Società Italiana di Medicina Generale, cure primarie, Società Italiana Malattie Infettive raccomanda una prevenzione vaccinale e una gestione mirata dei pazienti con Covid. Da qui il consiglio di adottare misure per prevenire infezioni e malattie utilizzando tutti gli strumenti disponibili. Dall'indossare una mascherina quando ci si trova in aree affollate a mantenere una distanza di sicurezza dagli altri se è possibile. Resta importante tenersi aggiornati con le vaccinazioni anti-Covid e influenza, soprattutto se si è a rischio di malattie gravi.